In carcere hanno finiti già nell'ottobre del 2013 insieme ad altre 19 persone nel corso dell'operazione Newgate che aveva sgominato una banda di rapinatori e destortori che prendeva di mira aziende di trasporti e tira nel porto di Palermo. Poi però erano stati scarcerati tornando subito in azione con taglieggiamenti, minacce e danneggiamenti. Questa volta però le vittime hanno deciso di rompere il muro dell'omertà e di denunciare tutto. E così per Giuseppe Latorre, 63 anni, e Danilo Gravagna, di 37, sono scattate nuovamente le manette. Ad arrestarli sono stati i carabinieri e Gico della Guardia di Finanza con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. I due pretendevano il pizzo danni da una ditta di spedizioni costringendo il titolare a pagare quote da 500 euro in occasione delle festività di Natale e Pasqua. Ma non si sono fermati qui. All'azienda, che opera anche all'estero, avrebbero tentato di imporre anche un'altra pesantissima condizione, quella di affidare tutti i trasporti all'azienda gestita dallo stesso Gravagna. A quel punto gli imprenditori hanno deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine. Le indagini, che rappresentano la seconda tranche dell'operazione Newgate, hanno rivelato che l'imprenditore, vittima del racket, avrebbe pagato il pizzo dal 2007 fino al 2010 ai rappresentanti del mandamento mafioso Porta Nuova, poi finiti in cella nell'operazione Leio nel giugno 2010. Ma a quel punto erano entrati in azione la torre Gravagna, con intimidazioni e minacce sempre più pesanti.